Sviluppi nella vicenda di Via De Santis, della quale, come si ricorderà, si parlò poco prima di Ferragosto dopo l'inquietante episodio di un'ascia trovata conficcata sul parabrezza di un'autovettura. Gli inquirenti spiegarono allora che dietro il presunto giallo si nascondevano rapporti tesissimi di vicinato, al centro dei quali c'era una persona accusata dai vicini di avere atteggiamenti poco consoni, fatti di violenze e schiamazzi notturni, parte dei quali frutto delle continue liti con la sua compagna. Gli stessi vicini avevano organizzato una raccolta di firme presentate alla magistratura e alle forze dell'ordine per chiedere l'allontanamento della persona. Ebbene, in questo contesto i carabinieri della compagnia di Via Antonio da Sangallo hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna, che ovviamente vive in Via De Santis. Alcune notti fa i militari sono stati allertati dalle telefonate di alcune persone che lamentavano il chiasso e le urla provenienti da un appartamento dove era in corso una violenta lite tra un uomo e una donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato nell'appartamento un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine al quale era stato decretato il divieto di avvicinamento a Via De Santis, proprio in conseguenza di un fatto analogo avvenuto alcune settimane prima. Questa volta è quindi scattato l'arresto con l'uomo accusato di violazione della legge numero 69 del 2019, meglio conosciuta come Codice Rosso e che mira a salvaguardare l'incolumità di tutti coloro che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti.